Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video oggi mi vedete completamente struccata perché finalmente dopo mesi e mesi e mesi ho deciso di tornare a registrare o mi preparo con voi, quindi oggi ci trucchiamo insieme mi trucco insieme a voi in vostra compagnia e come notate, alle mie spalle alla fine ho deciso di mantenere questa come postazione definitiva di tutti i miei video perché la trovo davvero molto molto carina in realtà questo è un angolo che mi è sempre piaciuto fin da subito, fin da quando siamo andate ad aggiungere il divanetto questo che vedete alle mie spalle da quando l'abbiamo aggiunto, da quando quindi abbiamo creato questa zona di relax mi sono subito follemente innamorata di questo angolo che in realtà inizialmente non sapevo bene come sfruttare, quindi sono davvero super super contenta di questo, in realtà le cose che vedete adesso alle mie spalle non ci sono solitamente, sono tutte cose che si trovano nel mio studio, sì quasi tutto ma per oggi le ho portate tutte su per creare questo angolino ancora più carino, più coccoloso e devo dire che mi piace molto quindi pollicino in su se questa nuova postazione vi piace detto questo iniziamo con il trucco di oggi farò un trucco davvero molto molto semplice un trucco che praticamente si può dire faccio quasi tutti i giorni utilizzando anche alcuni prodottini nuovi che mi sono arrivati in questo ultimo periodo ma come prima cosa ovviamente vado a mettere un cerchietto come primo prodotto vado ad utilizzare il primer ovviamente ho già messo tutte le creme idratanti questa mattina in realtà il primer non lo utilizzo tutti i giorni ma lo metto soltanto o quando devo scattare qualche foto magari per Instagram oppure quando devo registrare video oppure quando voglio che il trucco mi duri per tutta la giornata altrimenti il primer è un prodotto che non metto tutti tutti i giorni lo vado ad applicare su tutto il viso ovviamente prendo sempre poco poco prodotto e lo vado a stendere su tutto il viso mi concentro maggiormente comunque sulla fronte e sul naso dove ci sono i pori dilatati perché vado solitamente ad utilizzare il primer di Benefit il The Porefessional ma utilizzo quello nella versione rosa che è quello, è il primer leggermente più satinato e che quindi mi piace molto passo poi al correttore vado ad utilizzare questo di Puro Bio il correttore sublime è un correttore luminoso nella colorazione 02 che applico sulle occhiaie e poi vado a stendere con questa mini mini beauty blender che in realtà ho preso da Primark un po' di tempo fa e ancora non ho utilizzato quindi vediamo come si comporta ma in questo video in realtà di cosa volevo parlare non soltanto e non volevo soltanto tratturcarmi insieme a voi ma volevo chiacchierare un pochettino e quindi parlarvi un po' anche della convivenza come sta andando? ormai viviamo insieme da diversi mesi e devo dire che sta andando alla grande sono molto molto contenta in realtà lui è fuori casa praticamente tutto il giorno ma poi quando torna a casa la sera è super super bravo cioè è migliorato tantissimo rispetto a quando aveva con i suoi ma in realtà sono migliorata tantissimo anch'io perché prima sia io che lui eravamo abituati insomma a tutte le comodità del mondo davvero a tutto e invece adesso ci siamo ritrovati tutti e due insieme a dover far praticamente tutto e devo dire che lui mi dà una grande mano davvero è super super bravo comunque questa spugnetta non mi convince molto perché mi dà l'impressione di non stendere per bene il prodotto comunque tornando a noi nel frattempo sto andando a stendere un po' di correttore anche sulle parti arrossate del viso tornando al discorso di prima ripeto davvero super super bravo e non me l'aspettavo perché a casa davvero non faceva assolutamente nulla io rispetto lui ovviamente essendo donna facevo qualcosina in più di lui ma lui proprio ragazza non faceva assolutamente niente passo poi al fondotinta vado ad utilizzare questo di Clinique che vado a stendere con la spugnetta la beauty blender che ho preso sempre da Primark in quest'ultimo periodo quindi potete volendo credo che la potete trovare ancora è quella in edizione con un topolino in edizione limitata con la Disney e insomma vediamo come si comporta però ragazzi ho paura che facendo in questo modo quindi parlando dei prodotti poi tornando al discorso poi tornando di nuovo ai prodotti poi tornando di nuovo al discorso quindi continuando così ho paura che non si capirà poi alla fine del video assolutamente in ammazza quindi facciamo che i prodotti che utilizzo vi lascio scritti tutti qua sotto nell'info box e noi ci dedichiamo soltanto al discorso perché altrimenti davvero non si capisce nulla quindi tornando a noi devo dire che ci troviamo davvero super super bene insieme perché lui mi aiuta con praticamente con tutto lavoriamo tutti e due quindi ovviamente in casa entrambi devono fare qualcosa io sono dell'idea che anche l'uomo deve fare non dico le stesse identiche cose che fa in casa una donna perché sicuramente una donna è decisamente più portata però comunque anche l'uomo deve fare la sua parte decisamente perché altrimenti cioè noi donne impazziamo e lui è davvero bravissimo da questo punto di vista perché appunto ripeto lavorando entrambi lui ovviamente lavorando full time sta via tutta la giornata differenza mia che invece sta via soltanto metà giornata però la sera se capita che ovviamente io lavorando in un centro commerciale capita capita molto spesso la sera arrivo a casa più tardi di lui verso 9 e mezza 20 alle 10 e quindi ovviamente bisogna ancora preparare la cena dobbiamo ancora mangiare lui è bravissimo perché innanzitutto mi aspetta e quando faccio questi orari quindi torno a casa più tardi di lui non dico che trovo la cena praticamente pronta ma apparecchia la tavola mette l'acqua vuol dire se decidiamo di fare la pasta e a volte quando abbiamo finito di cenare capita molto molto spesso che faccio la doccia io prima di lui perché ok lui torna a casa prima di me circa 3 ore prima di me quando io faccio tardi però quando torna a casa ovviamente fa le sue cose fa la palestra e tipo si allena circa un'oretta e mezza al giorno poi praticamente si fa già tardi prepara la tavola e tutto quanto quindi anche lui la doccia la fa solitamente dopo cena e molto spesso sono io quella che fa la doccia prima e quando poi finisco la doccia mi trovo non ho la cucina ordinata perché anche lì ripeto non esageriamo però sparecchia la tavola carica tutto il lavastoviglie lava le pentole e il resto insomma lo faccio io quindi pulisco per bene poi la cucina il piano di cottura e tutto quanto sono davvero super super contenta e soddisfatta perché davvero mi dà una grandissima mano mi aiuta un sacco e sinceramente non me l'aspettavo mentre per quanto riguarda il resto in realtà ovviamente è normale faccio di più io perché sono a casa molto molto più di lui e poi perché si è decisamente una cosa più da donna quella di spolverare passare l'aspirapolvere anche se in realtà ho insegnato gli ho insegnato a passare l'aspirapolvere perché all'inizio era proprio imbrenato però quando almeno non ci sono mi piace l'idea che anche lui possa prendere in mano la situazione e quindi andare a passare l'aspirapolvere se c'è necessità e anche a questo punto di vista devo dire che è davvero molto bravo l'unica cosa che ancora non stiamo facendo qui da quando viviamo insieme e non sgridatemi ragazze vi prego non abbiamo ancora la lavatrice e quindi non abbiamo ancora lavato nulla e devo dire ragazze che un po' la lavatrice mi spaventa nel senso che non me ne intendo proprio non l'ho mai fatta neanche prima quando vivevo con i miei e è una cosa che non mi non mi entusiasma parecchio in realtà fare la lavatrice rispetto ad altre cose ad altre attività che si devono svolgere in casa quella di fare il bucato è proprio una di quelle cose che non non mi ispirano neanche un po' fatemi sapere se non sono l'unica fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la pulizia qual è il lavoro in casa che odiate di più in assoluto quello che cercate di evitare davvero come la peste quello che odiate fare e che magari non vi esce nemmeno così tanto bene a me personalmente tra tutte le cose credo che sia la lavatrice ancora appunto non le ho fatte ma credo proprio sia quella perché è l'unica cosa tra tutte le cose che si devono fare in casa che proprio non mi ispira non mi ispira proprio ed ecco questo è il motivo per cui ancora non abbiamo comprato una lavatrice perché comunque tra le tante spese che abbiamo dovuto fare perché non avevamo assolutamente nulla ci mancava proprio tutto 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 dai piatti alle posate cioè qualsiasi cosa pensate una cosa per la casa ecco non ce l'avevamo dovevamo assolutamente comprarla quindi insomma le spese sono state comunque tante e la lavatrice l'abbiamo un attimo accantonata quindi adesso ci stanno lavando le cose ancora i nostri genitori bella vita direte voi direi proprio di sì anche perché ovviamente non lavando di conseguenza non stiro neanche e forse adesso che ci penso bene forse 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 oltre a lavare la cosa peggiore probabilmente è stirare credo proprio di sì anche perché poi lui mette praticamente quasi tutti i giorni le camicie quindi vi lascio immaginare quante camicie dovrei stirare a settimana e già ho paura e poi già che ci siamo fatemi sapere anche sempre qua sotto nei commenti qual è invece la cosa che più amate fare nella vostra casa forse la mia preferita in assoluto forse è cucinare comunque preparare la cena adoro quando siamo insieme tutti e due qui a casa la sera dopo una giornata di lavoro comunque dopo una giornata impegnativa metterci ai fornelli e cucinare insieme preparare la mangiare raccontando insomma un po' come è andata la giornata quindi sì probabilmente la cosa che più preferisco da fare in casa è proprio quella di cucinare che devo dire non mi pesa affatto anzi mi piace molto e mi piace anche sperimentare nuove ricettine consultando ovviamente internet comunque ragazzi anche voi se avete esperienza di convivenza fatemi sapere qua sotto nei commenti insomma cosa ne pensate quale consiglio magari avete da darmi se vivete con il vostro compagno o la vostra compagna ormai da diverso tempo ripeto noi siamo all'inizio quindi sicuramente all'inizio tutto bello però comunque noi ci conosciamo da dieci anni quindi ci conosciamo davvero molto molto bene sicuramente una persona non si smette mai di conoscerla e vivendo insieme si conosce ancora di più di quello che in realtà si credeva di conoscere però ripeto davvero ci conosciamo da un sacco siamo una coppia che in realtà non litiga neanche spesso fortunatamente e ognuno ha i suoi spazi cosa fondamentale secondo me un'altra cosa che sicuramente ci fa vivere questa relazione così tranquillamente è appunto anche il fatto che ci coincidiamo ovviamente ognuno i propri spazi ma anche qui a casa in realtà a volte capita che magari io sono al computer magari sto editando qualche video io comunque sto lavorando al computer e ovviamente lui non è che viene a disturbarmi o comunque mi chiede di fare altro o di stare con lui e la stessa cosa la faccio io ovviamente nei suoi confronti a volte capita che quando torna a casa o magari anche nel weekend ha del lavoro da fare al computer arretrato quindi magari dedica quella mezz'oretta quell'oretta appunto al lavoro e ovviamente giustamente glielo lascio fare ma anche semplicemente per le proprie passioni tipo appunto la palestra andare a calcetto insomma qualsiasi cosa le cose che faceva prima ovviamente gliele lascio fare tutte anche adesso e così la stessa cosa lui con me cosa fondamentale secondo me in una relazione specialmente quando poi decidete di andare a vivere insieme è quella di lasciare comunque al partner i propri spazi quella secondo me è davvero la cosa fondamentale perché se ognuno i propri spazi comunque vive anche più sereno perché mantiene le sue abitudini e io venendo qua ho mantenuto tutte le mie abitudini e la stessa cosa è stata per lui quindi da questo punto di vista siamo davvero molto molto contenti perché nessuno stressa l'altro ognuno comunque è libero di fare le proprie cose quando vuole ovviamente rispettiamo appunto gli spazi dell'altro e tutto quanto passiamo adesso alla spesa voi come la gestite io in realtà non credevo di trovarmi così bene come facciamo adesso ovvero la spesa la facciamo insieme andiamo una volta a settimana al supermercato e facciamo appunto la spesa ognuno prende le cose che preferisce mangiare o che è abituato a mangiare e molto spesso capita che mangiamo cose totalmente diverse perché lui per quanto riguarda il cibo mangia molto molto meno rispetto a quello che mangio io adesso ho detto così sembra che io mangio un sacco lui non mangia niente ma proprio per quanto riguarda qualsiasi tipo di piatto lui mangia più o meno sempre le stesse cose invece a me piace sperimentare provare anche piatti nuovi mangiare anche cose un po' diverse è abbastanza invece abitudinario da questo punto di vista quindi ci capita la sera anche di spadellare 1500 pentole perché appunto abbiamo mangiamo piatti totalmente diversi voi invece come siete abituati a fare la spesa insieme quindi in coppia o preferite fare la spesa da sole fatemi sapere adesso passo all'eyeliner è questo momento super super critico quindi non parlo perché altrimenti faccio un casino per quanto riguarda il mascara sto ultimamente utilizzando questo di Benefit che mi sta letteralmente amando davvero mi piace tantissimo perché fa di quelle ciglia pazzesca davvero lo adoro ecco mi sono sporcata giustamente se non mi sporco non sono contenta comunque ricapitolando insomma questo discorso la convivenza sta andando più che bene insieme ci troviamo molto molto bene siamo abbastanza organizzati per quanto riguarda quasi tutto quindi spesa fare le pulizie di casa insomma ci dividiamo comunque i compiti lui mi dà una grande mano quindi da questo punto di vista sono davvero molto contenta perché la casa è davvero 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 grande e gestirla da sola sarebbe stato davvero un po' un problema fatemi sapere se i vostri compagni i vostri mariti vi danno una mano in casa come sta facendo Stefano oppure se magari era una cosa soltanto dell'inizio e poi col tempo hanno smesso di farlo perché in realtà tante persone mi dicono proprio adesso è tutto bello perché siete all'inizio quindi anche lui ti dà una mano però poi col tempo gli uomini smettono di farlo ma in realtà mio papà è uno che ha sempre aiutato in casa e tuttora fa davvero un sacco di cose quindi secondo me non è una cosa strana il fatto che l'uomo aiuti in casa assolutamente anzi tante volte sono ancora più precise secondo me gli uomini per quanto riguarda le pulizie rispetto alle donne che lo fanno quotidianamente però insomma fatemi sapere il vostro compagno da che sponda sta aiuta oppure no probabilmente cambiate l'inquadratura perché la videocamera ha smesso di registrare perché vuole la batteria scarica quindi nel frattempo mi sono messa anche i fornelli per preparare la cena di questa sera e adesso passo al brush non mi ricordo ragazze nemmeno dove ero arrivata con il discorso comunque sì in sostanza vi ho detto insomma tutto quello che volevo raccontarvi quindi che ci troviamo molto molto bene che ci siamo organizzati per bene tutti i compiti e quindi siamo davvero molto molto contenti insomma vedremo un po' come andrà con il tempo però come prima impressione sono davvero davvero molto molto contenta ok blush messo adesso mi manca soltanto l'illuminante e un prodotto per le labbra non l'illuminante se no mi ammazzo prima di sera perché qua c'è un casino adesso addirittura il fietone perché ho fatto le scale comunque dovete sapere che questa in realtà non è la postazione a cui avevo pensato ma pensavo di registrare video nello studio oddio ho il fietone ma com'è possibile non sono proprio per niente allenata ho fatto le scale a scendere e salire a di corsa per prendere l'illuminante adesso dove lo messo ok per prendere l'illuminante perché mi ero totalmente dimenticata dell'illuminante io ho il fietone fatemi riprendere un attimo ok possiamo riprendere mi sono un pochettino ripresa quindi passo all'illuminante che metto sempre sulle guance un po' sulla punta del naso e sulla fronte sulla fronte stasera non so parlare e come ultimo prodotto passo al rossetto liquido vado a mettere un po' di illuminante anche nel condotto lacrimale per illuminare maggiormente l'interno dell'occhio e nulla ragazze questo è il trucco completato spero di avervi tenuto compagnia con le mie chiacchiere se è stato così mettete un bel pollicino in su di supporto ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo ciao